terza forma di tutela per il design quella introdotta dal regolamento europeo 6 del 2002 è la tutela come design non registrato diciamo equiparabile equiparabile giusto per capire di cosa ci stiamo occupando a quello che noi chiamiamo marchio non registrato quindi marchio di fatto però ecco vediamo che giro bisogna fare per poter vantare una tutela di questo tipo allora come funziona abbiamo già detto che la sua radice normativa è il regolamento europeo del 2002 che ha introdotto anche la figura del design non registrato non registrato e creando così una tutela anche per i disegni modelli che non sono stati sottoposti ad una procedura formale di registrazione presso appositi uffici pubblici per ottenere la tutela è sufficiente conservare una prova possibilmente con data certa della prima divulgazione al pubblico del prodotto di design diciamo che forse allora quasi si avvicina un po nel meccanismo a quello del diritto d'autore vi ricordate il discorso della data certa no cioè il diritto d'autore in realtà il diritto ce l'hai già nel momento in cui crei il brano musicale crei il testo letterario crei la fotografia se però vuoi essere più sicuro puoi farti una prova di data certa cioè avere una copia che sia datata in una certa in un introvertibile quindi nel caso di un problema di una di una lite tiri fuori quella 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 copia dell'opera qua dice un'altra cosa leggermente diversa che appunto per poter vantare questa tutela come design non registrato devi comunque avere una prova con data certa della prima divulgazione quindi divulgazione non la semplice creazione cioè ci deve essere stata una divulgazione al pubblico del prodotto di design che sia dimostrabile ecco uno schema che rappresenta le diciamo le riassume le differenze tra design registrato e design non registrato credo che con questa con questa slide vi chiarisco un po le varie questioni quindi abbiamo detto che il design registrato copie copre scusate anche la copiatura non intenzionale invece design non registrato copre la copiatura intenzionale cioè in cui ci sia una vera attività di imitazione nel caso in cui sia plausibile che l'autore dell'imitazione non conoscesse il prodotto di design protetto e lì si va a discutere sul fatto che ci sia malafede che lui conoscesse davvero l'esistenza del prodotto fosse a conoscenza dell'esistenza del prodotto e l'abbia davvero copiato che sia stata una semplice casualità e succede in molti casi che sia anche una semplice casualità cambia il discorso dei costi no questo lo abbiamo già detto se è registrato costa c'è una procedura che richiede un versamento di una tassa e poi c'è un la consulenza per potersi per poter completare questa procedura invece design registrato non costa nulla devo al massimo farmi una data una prova di data certa la tutela quella del design registrato dura cinque anni dalla registrazione rinnovabile per quattro volte ancora quindi per un totale di 25 la tutela invece design non registrato dura tre anni dalla data in cui il prodotto è stato divulgato al pubblico per la prima volta all'interno dell'unione europea ricordiamoci che questo è una forma di tutela che esiste solo nella legge europea quindi in un regolamento europeo il design registrato è più indicato per prodotti di design con una prospettiva commerciale medio lunga mentre il design non registrato più indicato per prodotti di design con una prospettiva commerciale breve questa cosa in realtà non è farina del mio sacco questa è la prima riga della slide è ultima vengono da questo sito sib.it se cliccate sul link andate all'articolo che spiega un po questi due queste differenze mi sembrava molto fatto molto bene e quindi l'ho utilizzato come fonte basta